Il cantiere dei nuovi uffizi procede a grandi passi verso il completamento e l'azienda pratese Cellini GTC continua ad essere protagonista nella realizzazione degli impianti delle sale che via via si vanno inaugurando. Oggi è stata la volta delle sale del 400. Vediamo. Dal 400 senese passando per il Mantegna fino alla scuola veneta emiliana e lombarda del primo rinascimento. Dopo l'inaugurazione delle sale gialle dedicate al 600 fiorentino il cantiere per i nuovi uffizi va avanti recuperando altre cinque salette dove il nuovo allestimento propone 44 capolavori del 400. Pitture che appartengono alla scuola senese, alla scuola veneta, il nucleo maggiore, poi alla scuola emiliana e romagnola e alla scuola lombarda con un inserimento piemontese e che quindi di fatto allargano un po' gli orizzonti del percorso della galleria che è incentrato soprattutto sulla pittura fiorentina. La cosa davvero ragguardevole per noi è che ora queste opere siano tutte visibili lasciando spazio alla poesia oltre al solito feticistico incontro con i dipinti di galleria. I lavori effettuati a cura della soprintendenza per i beni architettonici in collaborazione con il Polo Museale hanno visto la partecipazione dell'azienda pratese Cellini GTC che in particolare ha realizzato gli impianti elettrici speciali antincendio. È stato inoltre installato un sistema di illuminazione a led con dimerizzazione collegato al pc che rende possibile regolare l'intensità di luce con un sistema di controllo centralizzato. Sono state installate anche telecamere a circuito chiuso ed è stato previsto un sistema antintrusione grazie a un sensore con tecnologia laser.